Tanto come dicevo, tanti complimenti perché è veramente una serie deliziosa e quello che mi ha colpito vedendo tre episodi uno dopo l'altro è che io mi aspettavo una cosa più autoconclusiva e invece no, e c'ha più livelli di lettura, una commedia romantica è un film di supereroi, è divertente, è un fantasy come vi è venuta in mente questa struttura? Sei stati bravissimi a legare insieme anche i vari sketch? Io da spettatore anche di serie televisive amo questo tipo di serie amo quando le serie al di là del motivo principale per cui la vedi o del tema che magari è per il genere, magari metti che è una serie horror la vedi per l'horror, però se poi oltre all'horror ci stanno altri elementi mi aiuta a avere quella bellissima voglia che hai che è una bella sensazione quando finisce la puntata e dici no vabbè, dovrei andare a letto ma non ci vado perché devo vedere la prossima ecco, credo che questo accade quando nelle serie televisive ci sono altri binari altri binari a parte il principale che rimane magari il fondamentale noi abbiamo tentato di farlo anche con questa serie e speriamo di esserci riusci tutto assolutamente, tu Eros hai avuto il compito di dare un look proprio cinematografico questo che ti è piaciuto, perché uno le serie le affronta soprattutto comiche 20 minuti, due risate e poi vabbè, poi vediamo la prossima invece qui c'è un investimento anche emotivo dello spettatore certo no, e poi anche poi devo dire anche nostro nel senso che a noi poi piace il cinema, lo possiamo dire rendere cinematografiche le cose ogni diciamo, ogni occasione anche perché il cinema è un linguaggio molto preciso, molto forte, molto puntuale questa puntualità arriva al pubblico, questa precisione nel racconto arriva al pubblico in termini di efficacia quindi per divertire di più noi ci siamo messi in questa avventura molto matta in questo formato molto pazzo che è appunto una serie televisiva ma in realtà è un grosso filmone pieno di strati è pieno di, anche un po' calidoscopico devo dire perché dentro poi ne vedremo delle belle anche nelle puntate a venire infatti siamo rimasti tutti appesi adesso siamo in ansia mi dite una cosa, la colonna sonora che è bellissima qui si va da Gershwin al pezzo com'è anche lì che avete scelto questo tessuto? Gershwin sarà l'unità di Eros devo dire che io ho appoggiato immediatamente perché amo l'autore ovviamente ma soprattutto perché ha dato ha dato quel sapore romantico appunto a una serie che di punto in bianco ti stupisce con qualcosa di assurdo che accade quindi questo romanticismo spezzato così violentemente in realtà sono tutti scossoni che puoi dare a chi vede la serie e questa devo dire che Gershwin sarà proprio una sua idea devo dire che è veramente molto alzeccata diciamo espande sicuramente la visione dello spettatore questa dimensione appunto romantica questa dimensione di romanticismo molto urbano poi alla fine che è appunto quello dell'epoca e dei luoghi di Gershwin in cui tante storie brulicano nella città tra cui quella di Lillo e del suo successo e dei tanti matti con cui ha a che fare appunto a proposito un'ultima cosa dei tanti matti ci sono varie coppie in questo film ci sei tu con questa moglie molto intelligente ma un po' ormai piena, satura di questo uomo bambino della mia immaturità e ci sei tu e Pietro Sermonti che è fantastica anche la coppia del tuo agente poi c'è Paolo Calabrese mi raccontate un attimo l'idea prima ci sono tante famose coppie nel cinema ma tu hai lavorato, lavori tuttora con Greg quindi qui qual è stato l'ingrediente diverso che hai voluto mettere? guarda, praticamente è stato naturale andare verso una certa direzione perché in realtà la serie dovrebbe intitolarsi Sono Lillo col punto interrogativo perché la serie in realtà è il vero titolo ma chi sono io? che è un po' la domanda che si dovrebbero fare tutti i protagonisti quindi ognuno è Sono Lillo Paolo Calabrese dovrebbe dire ma io chi sono? perché è un personaggio che non sa chi è ma la stessa Sara non sa chi è tant'è che ha una crisi di identità se ci pensi sono tutti i personaggi che cercano di capire chi sono quindi Sono Lillo è un titolo metaforico potrebbe essere Sono Lillo, Sono Pietro, Sono Francesco è un po' questo e poi si sono formate automaticamente delle coppie di persone che interagiscono fra loro di più però sono tutti se ci pensi lo stesso Pietro alla ricerca di chi cavolo sono io è un po' questo